L'Indonesia in 17 film, ovvero il Festival del Cinema Indonesiano, Kermes Fiorentina con l'Asia nel cuore, arrivata quest'anno alla quinta edizione, che si svolgerà dal 26 al 28 ottobre al Cinema La Compagnia. Il festival, diretto da Jacopo Cappuccio, apre una finestra su alcune eccellenze e sui tratti distintivi della società indonesiana. Si parlerà della sua storia, dell'arte tradizionale del Batik con la mostra fotografica allestita nel foie del cinema dedicata alla stilista Novita Yunus, dell'islamismo moderato che contraddistingue il paese a maggioranza musulmana nel film d'apertura Dawah del regista italiano Italo Spinelli, degli incredibili paesaggi naturali nel documentario Negeri Dongeng, delle arti marziali con lo spettacolo dal vivo Penak Silat, della vocazione al cinema d'animazione con i film Knai Chris e Battle of Surabaya, dal 26 al 28 ottobre, una a tre giorni dedicati al cinema d'Indonesia, cosa vedremo? Vedremo 17 pellicole che spaziano un poco su tutti i generi, possibilmente vanno dal film corto al lungometraggio, ai film per bambini, ci sono due cartoni animati che dovrebbero riuscire a essere capaci da attrarre il gusto di tutti gli spettatori più giovani, forse anche quelli più grandi perché uno di questi è fatto proprio non solo da studenti e quindi diciamo dovrebbe essere una sorta di dialogo ormai generazionale e internazionale ma anche perché ripercorre una delle pagine della storia indonesiana dell'indipendenza e collegata con la seconda guerra mondiale, quindi un qualche cosa che coinvolge in realtà tutta la storia mondiale e quindi dovrebbe piacere anche forse o interessare quantomeno perché tocca più punti importanti della storia. Quindi il festival è un momento di scambio, di intercultura? Sì, di scambio e cerchiamo anche di occasione perché in parte ci teniamo molto ma queste università che sono università importanti, non sono università diciamo di secondo piano ma hanno collaborazioni tra l'altro già internazionali, sono gemellate con 15, 16 altre università nel giro nel resto del mondo, quindi università americane, giapponesi, quindi università anche all'avanguardia, sono e hanno dichiarato di essere estremamente liete e aperte all'eventuale presenza di studenti che vengano appunto dall'Italia. Dedicherete anche un pensiero all'Indonesia colpita dal disastro dello tsunami? Sì, a questo proposito abbiamo anche avuto ed è un piacere, veramente un onore poter ospitare anche Amnesty International che sensibilizzerà ulteriormente, speriamo insomma l'attenzione e il cuore delle persone che vengono perché effettivamente come si è potuto leggere sui giornali l'Indonesia è stata veramente flagellata in quest'ultimo periodo da ormai da diversi mesi da tsunami, da tutto perché da terremoto allo tsunami al vulcano appunto così di Sulawesi eccetera è stato veramente un momento ed è un momento tragico per migliaia e migliaia di persone.